Il televisivo è un po' di coppia, lo devi prendere, lo devi prendere, lo devi accendere, ci siamo andati, ragazzi, ragazzi, non vi fate pinocchiare, sveglia, ora ho rilasciato tre interviste e non andranno in onda, per cui svegliatevi se voi aspettate che il sistema televisivo vi informerà, campagavano, l'erba cresce, quindi te apri un computer, ti trovi la tua informazione, vai da quello che non apre il computer e ti lo apri davanti e gli fa bene questa cosa, o lavoriamo tutti quanti, o l'italia è finita, questo è un lato di pazza, ne trai le quattro interviste che ho rilasciato adesso, si andranno in onda, come quella su Ballarò, che è andata in onda solo perché a Maurizio ci arriva a ripresa, Ballarò ci fa interviste di 20 minuti e non le manda in onda, per cui tu ti puoi fidare di questo sistema televisivo, no, per cui non ci chiedere, andate in tv, ma prenditi le informazioni e ti aiutaci tu insieme a tutti gli altri a disordine, e io penso che sì, ci vuole un po' di tempo ma già riuscire, ma qui al giornale i giornali stanno chiudendo, l'unica salvezza è la rete, ci vuole un po' di tempo, ci vuole un po' di tempo, tu vai se non è un'altra, prenditi e aiuta le persone che non ci vanno a fare più, il cerco delle energie che si mettono a fare più,